Chiedono di poter ripartire in sicurezza ripristinando mercati, manifestazioni e fiere, un appello che gli ambulanti campani hanno rivolto al prefetto di Salerno, Francesco Russo, nel corso di un incontro, a cui hanno preso parte anche il consigliere regionale, Franco Piccarone, il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpi, rappresentanza del Lanci. L'Anva ha chiesto l'impegno delle istituzioni per far ripartire i mercati nei comuni amministrati dai commissari prefettizi, ma anche ad Avellino, minacciando una protesta in caso di mancata ripartenza. Di fare un po' pressione sui sindaci, sui commissari prefettizi, per riaprire tutti i mercati che sono ancora aperti. Il momento di dire basta, di fare lavorare tutti. Tanti, forse tutti i comuni in questo momento, rifiutano ancora l'opinione di mettere in campo le fiere e quindi responsabilizzare i comuni su questa questione. Abbiamo la possibilità di aprire in sicurezza anche con tutti questi tipi di fiere. Con le fiere, le feste padronali ci sono molte persone che lavorano con quella situazione. Ci sono le luminarie, i fuochi d'artificio, noi che esponiamo. Fiere, feste e sacre sono tutte bloccate. I sussidi che ci hanno dato sono sostanzi per due mesi, ma per i prossimi mesi noi come facciamo a vivere? Noi che facciamo fino a luglio? Andiamo a mare? Purtroppo dobbiamo lavorare, non vogliamo gli aiuti, vogliamo lavorare. Per far ripartire le imprese è stato chiesto alla regione anche un prestito d'onore di 5.000 euro da restituire con una rata minima di 100 euro al mese, senza interessi. Inoltre, gli ambulanti hanno evidenziato la necessità di accelerare i bandi di gara per l'assegnazione delle aree mercatali, in modo da far lavorare tutti.